E' solo per una concatenazione di eventi fortuiti e grazie all'intervento di un residente se non siamo qui a raccontare dell'ennesimo femminicidio di un altro uomo che non accetta la fine di un rapporto. Matteo Cicerchi a 27 anni di Fano ieri voleva trasformare un giorno di festa in un giorno di orrore dando vita al suo piano per chiudere definitivamente la storia con la sua ex compagna sua coetanea alla presenza della figlia di 5 anni e poi darsi fuoco. Dopo diversi tentativi era riuscito a convincere la donna seppure riluttante a trascorrere assieme la giornata di Pasquetta coinvolgendo la piccola con la scusa di fargli vedere degli animali. Ma il destino o qualcos'altro si è messo di traverso ed il suo piano non è andato fino in fondo anche se nel pomeriggio di ieri in fondo a strada San Nicola si sono vissuti attimi di terrore. Cicerchi dopo aver prelevato mamma e figlia aveva imboccato la strada chiusa a causa di una frana svoltando a sinistra venendo da Fano dopo Novilara. L'uomo una volta fermata l'auto ha tentato di accoltellare la donna seduta sul lato passeggero sotto gli occhi della bambina seduta dietro senza però riuscirci fosse perché si era portato con sé dei comuni coltelli da tavola quelli usati per tutti i giorni e non dei trincianti che la donna con la forza della disperazione gli strappa anche dalle mani addirittura gliene spezza uno ferendosi e poi tenta di fuggire a piedi con in braccio la figlia urlando aiuto a squarciagola e a quel punto però viene raggiunta dal suo ex che la prende per la gola. Questo è il punto in cui l'uomo ha fermato la macchina ha tentato di accoltellare la ex e poi l'ha inseguita a piedi lungo questa stradina sterrata. In questo punto poi è intervenuto Ottaviani che insieme alla ragazza, alla figlioletta e lui stesso si sono rifugiati dietro questo guardrail. Io pensavo di trovarmi davanti una lite tra ragazzi o qualcosa del genere invece ho visto che c'era proprio una collutazione, c'era una ragazza che era disperata, chiedeva aiuto. Non mi aspettavo quello che mi sono trovato davanti quindi ero impreparato e poi abbiamo prima cercato di scappare poi l'uomo è salito in macchina e ha cercato di investire prima la ragazza e poi tutti e tre noi ha cercato di investire. La fortuna ha voluto che la macchina sia incastrata in un tombino di cemento e noi in quel momento siamo riusciti a scappare dopo che ci ha travoltola una prima volta e siamo riusciti a scappare ci siamo rifugiati in casa mia che è qui vicino. Quindi è riuscito comunque a colpirvi in un certo modo. Sì sì noi ci siamo rifugiati dietro quel guardrail ma lui lo ha centrato e ci ha travolto. Poi ha fatto retromarcia per colpirci un'altra volta ma per fortuna la macchina si è incastrata e quindi è molto determinato. Eh sì sì. Il destino ha voluto che Ottaviani fosse in casa febbricitante e non al parco dove invece si trovava la moglie con il figlio piccolo che nel tentativo di sfondare il guardrail per investire i tre l'auto si fosse incastrata nel buco provocato da lui stesso. A vederlo Gabriele Ottaviani non ha l'aspetto del supereroe, corporatura media, fisico asciutto ma non palestrato, di professione impiegato, calmo, un uomo di tutti i giorni insomma ma che non ha esitato in quei momenti drammatici. Mi viene da dire che è andata bene come è andata e che la possiamo raccontare che la mamma e la bimba stanno bene prima di tutto e che è finita così. Lei come sta? Adesso ho ancora un po' frastornato e con qualche botta quella mamma si sistema tutto. Quando lo abbiamo intervistato stamattino non lo sapeva ancora ma nella giornata la giunta comunale di Pesaro ha deciso di riconoscergli un encomio pubblico per il suo coraggio. Per Matteo Cicerchia invece si sono spalancate le porte del carcere di Villa Fastigi con l'accusa di tentato omicidio plurimo.